uh ragazzi facciamo pandan un esemplare di jozzy keko chi indovina come si chiamano questi così qua gli lascio il cuoricino forse sono un po' sporco e salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video innanzitutto per il jozzy keko io lascerei un bel pollicione in su per la mia performance detto questo raga il tanto atteso e tanto aspettato video sulle macchine casuali ma questa volta con i neon ragazzi andiamo a mettere i neon più brutti mai visti della storia e in più vediamo che macchine ci presenta questo gioco questa volta speriamo bene l'ultima volta ci è andata benissimo perché sapevamo usare tutte le macchine devo dirvi grazie a tutti quelli che mi seguono su instagram raga la sera ci facciamo delle gran risate perché voi mi scrivete in direct e io vi rispondo e chiacchieriamo là quindi seguitemi su instagram basta cercare jozzy e mi trovate ho tipo quasi 40.000 iscritti anche su instagram e raga grazie davvero di cuore a tutti per il supporto siete simpaticissimi detto questo raga vi lascio al video e buone risate perché veramente ve ne farete come potete ben vedere qui abbiamo la nostra cara tigris come avete visto nel video di ieri se non l'avete visto questa è la mia macchina ufficiale e quando ne creeranno un'altra allora la cambierò fino a quando non la fino a quando non esisterà una nuova macchina io userò questa appunto e basta c'è fanculo la comodo e tutte le altre tutte fenne con fruttine un bel beghellus non giocheremo con questa macchina ovviamente andremo a creare le macchine casuali e guardate un po siamo rimasti con questa macchina non so se ve la ricordavate la gran cornuta vediamo che cosa ci aspetta quest'oggi vediamo ragazzi e chissà che led ci metteranno sotto vedremo ragazzi andiamo qui tasto casuale io non voglio guardare io non voglio guardare 3 2 1 ma sono una bellissima principessa ma che cazzo sono frozen la gran principessa le regò le regò il mio beghellus a chi lo do le regò le regò no mi dissocio dal beghellus andiamo a vedere subito che led ci ha portato questa volta il signor gioco vediamo con che led ci fa ficcare sotto vediamo andiamo in allenamento andiamo in una mappa ma che rumore c'ha ma poi che bandiera è che bandiera è ragazzi mmm siamo contro un 1754 ragazzi si è talmente tanto spaventato dalla principessa che ha quittato allora andiamo a cercare una nuova macchina ragazzi visto che questa fa talmente tanto paura scrivetemi nei commenti che bandiera è quella lascio il cuoricino a chi indovina il bandiera di quella che cos'è lodate il sole lode al sole che bandiera è quella vabbè andiamo a farne un'altra ragazzi vediamo che cosa ci aspetta io non guardo sempre è un mini zombie o un mini creeper ragazzi secondo voi è un mini zombie o un mini creeper scrivetemelo nei commenti no eh troppo brutta no eh troppo brutta no eh no ragazzi no no ragazzi no no ragazzi no no ragazzi l'aftershock no no ragazzi con mamma avocado che mi guarda che cos'è quel mio beghellus la mattina bello dritto dritto se indovinate il nome della bandiera se indovinate il nome della bandiera scrivetelo nei commenti questo è facile però non ve lo dico prima la principessa mo l'aftershock con mamma avocado e non oso immaginare che led no ragazzi però rossi sono fighi wiii si oddio lo spacca terra no ragazzi è vomitevole senti là che bella song yeee che bello ragazzi vediamo ragazzi speed kick off con l'aftershock ok vinto ragazzi guardatela carica l'aftershock oh 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 un aeroplano ti plana nella no non si dice hehehe hehehe l'aeroplano che poi gli hanno messo pure la skin platino ah secondo gli haters il rank che mi merito si 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 sembri un silver sembri un silver sembri un bronzo no eh no eh grazie alla beghellus che che sto con l'aftershock la macchina più brutta e difficile da usare di sempre poi gli hanno messo anche lo spacca terra e il mamma beghellus con questi ehi volo sono un aeroplano il treno 713 proveniente da milano centrale mamma mia tutte le macchine mi potevi dare tranne questa tranne queste tutte le macchine tranne questa ma perché mi ha dato questa perché ma poi con sto beghellus sul cofano qua tra tutte le macchine questa più mamma avocado sopra guarda guarda ehi il grand oggi di mamma avocado vai mamma infilalo infilala ma che devi infilare non so io dove devi infilare tra poco te ne vedevi nel garage nel garage mai più ragazzi mai più mai più lo sapete quando porterò un se questo video arriva a 15.000 like vi porterò una nuova serie altrimenti niente più niente più serie basta la serie finisce qui perché io ogni volta non posso usare queste macchine ve lo giuro ragazzi come faccio a usare l'aftershock con mamma con mamma avocado guarda poi una bella luvola sì che belle le nuvole ma per favore ragazzi certo che questo per cioè sta perdendo 4 a 1 contro un aftershock ragazzi 4 a 1 contro un aftershock padre figlio spirito santo guardala come pulisce una mosca una mosca puniscila infilala dove vai mamma mia che macchinina bruttina ah devo resistere devo resistere devo resistere è veramente difficile raga giocare con quest'auto è boh abituato alla mia tigris adesso devo usare st'elicottero qua sto infilo nel buchino niente buchino mamma mia che merdino no cacio billy no eh no eh al flip guarda come dondolo guarda come dondolo con l'aftershock le tue gambe ad angolo no mi dissocio con le gambe ad angolo fanno il twist io te la infilo io te la infilo resisti bambina resisti bambina vai bambina no bambina no bambina no bambina no bambina mi dissocio dalle bambine no bambina no bambina si bambina si bambina si no eh no bambina no 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 vai piccolina 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 l'aftershock punisce punisce brava mamma avocado brava brava ti sei fatta valere guarda tu per me guarda tu ti prego papa ti prego uno ma che macchina è il ritorno delle corna ragazzi la cicala cicale 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 meno male non c'è nessuna bandiera con questa qua dovrei performare però è un abbinamento cioè è un abbinamento cazzuto ragazzi cioè guardate come è predisposta questa bella cornuta andiamola a provare istantaneamente no però i led rosa no i led rosa no però cioè aggiunge quel tocco di uh uh dai birichino non dovevi allora per questi led rosa ragazzi saremo costretti a trasformarci anche noi uh ragazzi facciamo pandan con la macchinina rosa matonnina buona una diozza una 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 pantera rosa c'ho c'ho un po' di capellini c'ho un po' di capellini nelle mie nei miei occhi ragazzi se vinco così impazzisco se vinco così impazzisco ve lo giuro vieni qua RX ti faccio assaggiare il mio bastoncino il mio baston non vedo un cazzo come fanno le femmine a giocare mamma mia che speed kickoff con la cornuta vieni qui vieni qua che ti do il mio bel bestione vieni qua uh la cicala la cicala vieni che te lo infilo vieni che te lo infilo uh ma quanti pesci ma che bei pesci forse è un po' troppo cringe ok togliamo la parrucca andiamo ragazzi oh merda eh per vinci bacco mannaggia la cacchina mi stavo togliendo la parrucchina sono pieno di capelli sono pieno di capelli rosa pieno di capelli rosa però il gol con la parrucca gliel'abbiamo fatto ragazzi il gol con la parrucca gliel'abbiamo fatto non ci preoccupiamo ragazzi non si vede niente con questo boost non lo userò mai più vai cicala no si vabbè ragazzi ma questo quanta MMR ha a 1600RXXXR ma tu insomma come raga cioè è ingiocabile con queste cioè con questo boost non si vede niente non si vede nulla è ingiocabile così ve lo giuro ragazzi vedi un gran pechè ma poi che ruote c'ho tutto rosa uh come una big bubble big bubble lo conoscete quella canzone se la conoscete ditemi il nome della cantante se l'avete vista X Factor big bubble big bubble mi stai prendendo in giro solo perchè sono una donna eh solo perchè mi hai visto che sono una donna e c'ho il led rosa vieni qua no mi dissocio da questo volo ragazzi si sta prendendo gioco di me solo perchè c'ho la cicala cicala non l'autorizzerò mai mai nella vita via via dal beghellus via dal beghellus e assaggia il mio cornone mamma mia un abbinamento più brutto non lo potevano fare ehi dove vai Giacomo ehi qua che ti te lo infilo ti incorno ti incorno il corno ma poi che c'ho ehi vola la cicala la cicala vola vieni qua vieni qua piccolina no non te la prendere con me solo perchè sono una little donzella vieni qua che ti faccio assaggiare la mia cap no 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 un po' di pesci un po' di pesci che poi io mi metto a trollare a 1700 di MMR cioè non è che dici meh usi un nuovo account per fare il content oh che vai trolliamo a 1700 di MMR vieni qua beh per tutti quelli che si chiedono che cos'è Giozzi l'MMR l'MMR è una sorta di rank delle normal più ce l'hai alto e più arrivano bestie tibetane contro io attualmente ho quasi 1700 e devo dire che ci sono veramente bestie incontro grand champion champion ho incontrato come vi ricordate non so se non so se vi ricordavate ho incontrato il supersonic legend insomma tutte queste cose qua cioè ho capito che questa macchina è gratis gratis come il twitch prime ragazzi se avete il twitch prime potete abbonarvi gratuitamente quando è bello la parola gratis gratuitamente al mio canale senza costi aggiuntivi ma soprattutto potrete avere numero di telefono gruppo dei sub giocherete con me il martedì e il sabato nei tornei richiesta di amicizia ma to ma quante cose che volete pure una spindarella da dietro la volete la spindarella no niente spindarella avete presente quella canzone senza pagare eh con la canzone lì uguale intanto questo è un duro combattimento no no con questi voli dai eh ciao e qua che ti incorno ah non vuoi eh non vuoi non vuoi lo so che non vuoi comunque è ingiocabile sia con la cicala e sia con questo booster ragazzi questo booster è ingiocabile ah ti aggredisco con il mio corno no 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 un saluto a no che ci guarda da sopra l'arca che divide le acque mannaggia al demonio 5 a 7 sto beghellus eh bello speed kickoff questo è il kickoff del quale vi parlavo nei miei video e nelle mie live vi ricordo che io streamo tutti i giorni dalla mattina alle 9 del mattino dalla mattina alle 9 del mattino fino al pomeriggio e anche la sera che vi faccio compagnie se avete delle domande venite su twitch che su twitch ragazzi indovinate un po' indovinate un po' ci facciamo delle gran risate eh si ragazzi andando qua rx sta facendo un po' un po' troppo il pro player vieni qua rx che ti salgo addosso come un mondone vieni qua che ti munco come quella vacca di tua madre no povera mammina eh rega mi ha spaccato gg per lui non riesco a recuperare il primo forfè ragazzi il primo forfè perché jozzy non vi fa vedere solo le win mi fa vedere anche le lose e se voi siete dei veri condottieri vai via un trapper schio schio adesso per supportarmi dovete lasciare un bel pollicione in su a parte gli scherzi questo era veramente bravo era bravo e poi con il boost e con quelle corne cioè come fai a batterlo con una cosa legge la cicala chi l'ha mai usata la cicala l'ho usata forse una volta si apre con quelle alette bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo che io streammo tutti i giorni in live su twitch quindi se volete venirmi a salutare mi trovate in live su twitch basta scrivere vengo da youtube e io vi saluto raga grazie a tutti per aver visionato questo video e mi raccomando dovete avere sempre il Begellus Erectus alla prossima raga dai ciao partai ciao 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 ciao